Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo che offre un'avventura coinvolgente nel mondo delle fiabe fantastiche, con particolari enfasi sull'importanza dei sogni e della fantasia. Un'opera che si rivolge sia ai ragazzi a partire dai 12 anni che agli adulti per intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di se stessi e delle proprie aspirazioni. La trama del libro Aliria e altre storie, fiabe per grandi e piccini, dello scrittore Elio Tocco, pubblicato dalla casa editrice Srigge, è la seguente. Aliria, ossia Alice più Fantastoria uguale Aliria, ci riporta nel mondo delle fiabe fantastiche, un mondo in cui recuperare la dimensione dei sogni e della fantasia. I giovani possono ritrovare in queste storie un orologio senza tempo per riflessioni profonde sul senso della vita e sui valori fondamentali che l'accompagnano. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura, condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.